grazie al prossimo video buongiorno amici e bentornati o benvenuti nel mio canale secondo che voi siete qui per la prima volta oppure no anche questo weekend andremo a fare la classica riparazione delle macchine tante macchine tante amate macchine comodo questa volta abbiamo una novità perché stiamo parlando di ben due macchine contemporaneamente non chiaramente dello stesso utente perché non è possibile stiamo parlando di francesco e di gerry perché due macchine contemporaneamente perché hanno entrambi spedito una macchina molto particolare nel senso che è una delle poche macchine che non abbiamo ancora visto qui sul nostro canale macchina non tanto tanto diffusa dire il vero comunque difficilmente rintracciabile per certi aspetti per cui andiamo a fare un tentativo di riparazione di entrambe chiaramente non lo faremo in questa unica puntata in questo unico video spererei per gli due utenti di sì ma immagino invece il contrario che sarà necessario fare questa riparazione in più video anche perché il canale si sta modificando ci saranno delle novità da qua a breve le prime novità sono state già qualche settimana fa l'introduzione di un gruppo telegram dedicato al canale gruppo telegram che è andato veramente benissimo e per il quale insomma saluto tutti quanti i membri del mio gruppo telegram dicevo gruppo telegram che è andato benissimo perché nell'arco di veramente poche settimane ha raggiunto e superato la bellezza di oltre 250 membri proprio per questa ragione visto comunque che sono anche dei membri molto attivi quindi il flusso di dati informazioni è veramente importante l'ho poi diversificato ci siamo spostati e quindi in questa nuova casa in questo nuovo gruppo di cui probabilmente vi invierò il link ho qui come al solito qui abbiamo creato praticamente una struttura che potesse essere più fruibile con dei topics quindi con degli argomenti ognuno poi si va a seguire l'argomento che gli interessa senza doversi sorbire centinaia di messaggi quotidiani ora però è il turno di francesco andremo chiaramente a fare ammesso che sia possibile una riparazione per volta ammesso che sia possibile nel senso che nell'arco della stessa giornata ricordo tutte le riparazioni che avete visto finora sul mio canale sono riparazioni che sono registrate la mattina metà mattina di sabato si concludono entro la sera di sabato compresso il video chiaramente poi domenica montaggio pubblicazione vista la tipologia di macchina ma soprattutto il danno veramente importante entrambi danni da purtroppo la classica batteria varta anzi la classica batteria probabilmente richiederanno un tempo che non potrà essere spesso nelle poche ore a disposizione della cellula giornata di sabato per cui andremo a fare delle puntate e anche perché tra le rivoluzioni ma più che rivoluzione tra le modifiche che andremo a fare in questo canale youtube probabilmente ci saranno anche le tempistiche oltre che gli argomenti che andremo ad aggiungere a trattare tenterò di fare delle video più brevi possibili ma più numerosi quindi se riesco probabilmente avremo più video a settimana magari con argomentazioni differenti ma decisamente più corti dei classici video però se continuo a parlare non raggiungiamo questo scopo quindi banda le ciance prendiamo la prima macchina che quella di francesco la mettiamo sul solito tavolino del laboratorio andiamo a scoprire cosa ci ha inviato e se riusciamo a dargli anche a francesco la possibilità di fare la propria tanta amata macchina comoda il scatolone è abbastanza ingombrante ma soprattutto relativamente pesante andiamo a scoprire il suo contenuto o meglio sappiamo già che si tratta di un amica 3000 ma non non sappiamo nelle condizioni e né tantomeno cosa ci è stato inviato quindi scopriamoli insieme ok come al solito vi dico sempre che a me piace in qualche modo valutare anche il confezionamento direi ottimo abbiamo dei cartoni messi in un modo da creare quasi degli ammortizzatori e un bel po' di pluriball ottima idea di proteggere anche gli angoli che sono le parti che mediamente si danneggiano più facilmente e quindi togliamo la macchina d'accordo non vi lascio allo srotonamento chilometrico del pluriball immagino ce ne sia veramente tanto ci vediamo subito dopo ok questa è la macchina che mi ha sorpreso perché vabbè ok non è trattata benissimo è veramente molto mal ridotta piene di righe eccetera eccetera ma la cosa che è più impressionante che è completamente umida e bagnata non so sembrerebbe essere uscita da una cantina da qualcosa molto umida cioè praticamente ci sono le gocce di acqua che non so se escono fuori in video non è solamente ingiallita ed emana un odore praticamente di muffa quindi il mio problema è cosa ci sarà dentro ho l'impressione di trovo spero di non trovare la stessa situazione della miga 4.000 perché altrimenti chiaramente non sarebbe fattibile in un video o comunque in una riparazione normale una situazione del genere per il momento faccio così anche per poterla maneggiare andiamo di pulizia spero sia almeno qualcosa di superficiale magari una condensa che si è creata durante il trasporto a causa del pluriball che non la faceva respirare però non credo perché ok ovviamente non torna nuova con una pulitura del genere ma abbiamo tolto quantomeno la muffa l'umidità quello che è beh apriamo la macchina e scopriamo cosa troviamo all'interno anche le viti sembrano arrugginite questo non mi lascia sperare un gran che bene sembrano anche ossidate oltre che che arrugginite spero siano ossidate perché magari il nostro francesco abita in una zona vicino al mare capita molto spesso che succede proprio questo e non sia l'effetto di qualcosa di interno beh anche lei connettori tutto quello che riguarda la meccanica di dietro effettivamente è completamente arrugginito ok cover superiore rimossa controlliamo l'interno eh sì anche qua c'è stata l'effetto malefico della batteria batteria che è stata però prontamente rimossa però non so se è giusto in tempo la piastra è relativamente sporca ma non quanto potessi immaginare viste le condizioni esterne lo slot è leggermente fuoriuscita da un connettore ma il resto mi sembra tutto nella norma d'accordo allora ok qua c'è il componente per realtà mi coloco con i pin completamente ossidati eh sì c'è dell'ossido praticamente intorno a questa zona ci tocca praticamente smantellare completamente tutta la piastra per poter fare i primi test di funzionamento a piastra sul tavolino qui la basetta per il led è spezzata ma non dovrebbe essere un problema ci saranno siano tre quattro collegamenti proprio solo ed esclusivamente per il led continuo con lo smontaggio ok questa è la scheda smontata nel togliere la scheda madre sotto ho trovato questo che non ho capito bene che cosa sia sembrano due via con due riofili e una sorta di ponte che non so se era libero all'interno o in che modo fosse presente là sicuramente poteva essere anche causa di qualche cortocircuito per cui lo mettiamo comunque da parte per cercare di capire dove è stato strappato caduto non ho idea sicuramente è stato fatto un intervento sicuramente è stata tolta la batteria e però cerchiamo di capire se la cosa è fattibile in questi contesti del video oppure no e quindi per poterlo fare sistemo tutto il setup per poter fare il collaudo e ci vediamo subito dopo prima però andiamo a vedere dove la batteria ha fatto i suoi danni la batteria è rimossa ma vediamo quelle macchioline marroncine scure che praticamente popolano tutta la zona delle solder mask di questa zona qua intera quindi da qua fino a qua è sicuramente un effetto dell'acido anche dalla parte opposta troviamo questo via che sicuramente è saltata questa pista che anche lei non è messa in buona condizione questa zona qui risaldata come quest'altra insomma non è messa malissimo rispetto ormai ci siamo abituati alla mica 4000 dello scorso video quindi diciamo che siamo su tutto un altro pianeta ma comunque non è messa neanche tanto bene per cui immagino che questa richiederà un bel po di tempo di pazienza e quindi più video per la propria riparazione spero proprio di no ma intanto andiamo a creare il setup per poterla provare qui vediamo il solito classico setup il solito tft il modulatore 520 per avere un composito colore disponibile ricordo che la miga 3000 ha uno scandubler incorporato in un certo senso e con la possibilità di uscire anche con una comune vga per cui potremmo anche collegarlo alla comune vga alimentatore chiaramente e nient'altro proviamo ad accendere vediamo che tipologie di problemi ha ossido se ne vede un po dappertutto persino il connettore della fast slot è veramente ridotto maluccio ma bene o male insomma sembrerebbe per il momento solo una questione estetica andrebbe sicuramente fatto un po di lavaggio comunque cercate una soluzione per togliere questa patina diciamo biancastra che riveste alcune zone della miga 3000 però in questo momento ci interessa capire cosa sta succedendo andiamo ad accendere l'alimentatore ovviamente prima devo accendere anche il monitor oddio c'è già una modulazione video schermo grigio bianco e attendiamo qualche secondo beh l'immagine ci mostra una miga apparentemente funzionante vabbè vi porto la camera direttamente sul monitor tanto il setup l'abbiamo visto e cerchiamo di approfondire un po' il problema e come si vede il l'amica 3000 si avvia regolarmente ora non ho collegato il mouse per cui non posso spostarmi con il cursore l'amica 3000 che mi sta chiedendo di inserire il disco della kickstar quindi mi permette la selezione della 1.3 o della 2.x che sarà la 2.0 la 2.04 se non ricordo male dischetti non me ne ha forniti non credo di averne in questo momento non ricordo se ho uno dei super kickstar per l'amica 3000 teoricamente no ma dovrei andare a controllare ma la cosa che mi incuriosisce è capire il motivo per cui è stata spedita che sicuramente me l'avrà detto nella messaggistica ma ora non ricordo più quindi solo un attimo di pazienza che per voi è un solo frame controllo la messaggistica vedo per il motivo per il quale è stata spedita questa miga dopodiché continueremo con la nostra riparazione se necessaria ok ho appena controllato la messaggistica con il nostro amico francesco e devo dire che inizialmente non capivo cosa volessi dire poi col senno del poi guardando la macchina assolutamente sì mi ha parlato di questa miga 3000 che dava qualche segno di vita che però non faceva il butto da floppy a seguito dell'acido della batteria che è stata rimossa quindi lui mi ha confermato che la batteria era stata rimossa nonostante avesse già buttato l'acido all'interno della macchina e che però non riusciva a buttare quindi ho pensato immediatamente a un problema sull'interfaccia floppy della nostra miga magari causato da qualche via qualche pista danneggiata l'ultimo messaggio che mi ha mandato dopo che avevamo già stabilito che doveva spedire mi manda la schermata che abbiamo visto di boot della richiesta del super kickstar dicendomi che non poteva andare avanti che probabilmente c'era qualcosa che comunque non andava ma che comunque la macchina partisse fermandosi ovviamente lì e poi solo in quell'occasione mi ha detto non c'è il floppy ora che ci penso effettivamente noi il floppy non l'abbiamo trovato allora la domanda che mi ponga adesso forse col seno del poi adesso è molto più chiaro il messaggio ma uno immagina che se ha una macchina nella cantina da tanti anni la sappia usare o comunque sappia come funziona questa miga come abbiamo visto non ha nessun hard disk installato non ha il flop drive per cui niente lì si ferma lì semplicemente chiedendomi di inserire il super kickstar nel caso in cui io volessi far partire la macchina con un super kickstar 1.3 o 2.04 confermo che in questo momento non mi sono trovato un super kickstar fra le mani non sono riuscito a trovarlo non ricordo neanche di averlo avuto nell'ultimo periodo negli ultimi due tre anni sicuramente l'avrò avuto molti anni fa ma va a pescarlo comunque qualcosa di cui ora mi attrezzerò comunque ma l'amica 3000 per poter in qualche modo avviarsi senza il super kickstar è possibile nel momento in cui la macchina si accende con il doppio tasto inserito questo stiamo parlando di una delle prime versioni dell'amica 3000 basta andare in un bottone in angolo in alto sulla sinistra dello schermo non visibile praticamente trasparente cliccare là sopra e si avvia automaticamente la kickstar più piccola la 1.4 dopodiché lì bisogna avere comunque un dischetto un hard disk un qualsiasi cosa dove caricare il software altrimenti ci rimane lì vi mostro quello che sto dicendo installiamo un flop sulla nostra amica che a questo punto allora potrebbe essere assolutamente funzionante verifichiamo se effettivamente è così e quindi andiamo avanti in questa pseudo riparazione che se così si riduce a installare un floppy pulire la scheda questo sicuramente sì a questo punto facciamo una bella verifica e magari passiamo velocemente all'altra amiga 3000 comunque vi porto la camera direttamente sul monitor e verifichiamo se come penso questa macchina si avvia regolarmente ok proviamo ad accendere la macchina teniamo i due tastini del mouse schiacciate l'avvio anche se penso che non ce ne sarebbe bisogno da una certa versione in poi però non ricordandomi quale questa è va bene così ok noi a questo punto se avessimo un drive avremmo dovuto mettere questo super kickstar selezionando l'avvio da floppy in caso di kickstar 2.x quindi 2.0.04 eccetera eccetera o kickstar 1.3 floppy chiaramente se ci dovesse essere presente se dovesse essere presente un hard disk sarebbe stato sufficiente cliccare su hard drive però se vogliamo caricare la kickstar già incorporata alla nostra amiga 3000 andiamo nell'angolino dello schermo più in alto e a sinistra possibile non appare nulla come vediamo in video ma cliccando sopra la macchina si avvia si avvia col kickstar 1.4 che poi è una pre-release è una versione beta ecco una versione beta che ricorda la 2.0 diciamo che è una versione precedente alla 2.0 per cui la kickstar e la macchina si muove sembrerebbe essere tutto ok a questo punto non avendo un drive con il super kickstar cosa possiamo fare possiamo andare a procurarci un bel gothe che lo installiamo sulla nostra interfaccia floppy e verifichiamo se il resto delle funzionalità della macchina sono funzionanti oppure no quindi inserisco anche l'audio la tastiera non ce l'abbiamo a questo punto mi sta venendo l'idea di smontare di aprire l'altro pacco verificare l'altro pacco ecco questa è una cosa che va sicuramente verificata abbiamo parecchio ossido su questi pin che comunque vanno puliti anche questi sono pieni di ossido per cui questa zona qua va sicuramente fatta una pulizia gothe che sta al lato andiamo ad accendere la macchina e proviamo a caricare una qualunque cosa ma si buttiamoci su su amidar dai un classico arcade quindi in angolino sullo schermo e sta avviandosi amidar conseguentemente immagino che il resto stia funzionando correttamente l'interfaccia floppy funziona e quando mi diceva non si avvia da floppy chi poteva immaginare che proprio il floppy non era presente ok come si vede amidar è perfettamente caricato non sento audio proviamo a vedere se dipende dall'uscita audio l'uscita mi sembra che è veramente troppo troppo bassa provo ad alzare il volume ma forse l'unico problema è che questa macchina sta proprio sull'audio ok per testare l'audio siccome amidar non me lo ricordavo che suona avesse ho caricato praticamente il bellissimo bomb jack nella produzione di quest'ultimi anni ora non ricordo se risale al 2020, 21, 22, non credo il 23 e come vediamo l'audio è assolutamente inesistente non è un problema di amplificatore perché se io tolgo dalla mia amiga i connettori RCA e li vado in qualche modo a toccare una parte metallica credo sentiate anche voi che c'è il rumore classico insomma dell'amplificatore che va quindi evidentemente c'è un problema proprio sul chip o sulla zona di preamplificazione audio analogica cerchiamo di indagare usando il nostro oscilloscopio per verificare se Paula genera questo audio tra l'altro Paula che si trova in una zona praticamente critica immediatamente sotto la batteria vi faccio vedere un attimino meglio in camera ecco forse così è più chiaro magari da questa inquadratura vediamo meglio la batteria si trovava in questa posizione e Paula si trova invece praticamente immediatamente sotto a questo punto non essendoci proprio nessuna forma di audio potrebbe essere lei che non genera più assolutamente nessun tipo di audio potrebbe essere come dicevo prima il nostro preamplificatore operazionale che in questo caso qua è un TL084 vediamo se intanto carico gli schematici ok sullo schematico viene riportato come preamplificatore operazionale un LF347 qua abbiamo un TL084 sono comunque entrambi compatibili quindi ora che Bomb Jack è caricato e quindi dovrebbe produrre teoricamente dell'audio andiamo sui pin 3031 del nostro 8364 la nostra Paula il package mi sembra che sia da 24 più 24 48 quindi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 qua dovremmo trovare il canale destro e come si vede abbiamo un bel 1, 2, 3, 2 volte e mezzo circa fissi mandiamo il canale 31 stesso e identico discorso ci spostiamo sul pin 1 dell'amplificatore operazionale e abbiamo questa bella porcheria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ce l'abbiamo qua anche questa uscita idem pin 14 come non detto pin 7 stesso e identico discorso per cui abbiamo in uscita dal nostro amplificatore audio semplicemente una corrente continua corrente continua che sembra provenire direttamente da Paula per cui andiamo a spegnere la nostra macchina apriamo Paula verifichiamo le condizioni dello zoccolo che a mio avviso non sono messe bene considerata la vicinanza con la batteria e probabilmente qua troviamo il nostro primo problema sulla MIGA 3000 decisamente zoccolo completamente ossidato vediamo un attimino con il microscopio e quindi valutiamo lo stato delle cose troviamo ed eccoci qua con il nostro fido microscopio e già da qua si incominciano a vedere i cristalli di ossido quei puntini verdi come abbiamo visto in più più e più volte nel canale ecco qua è praticamente una ossidazione qua sta peggiorando infatti va a diventare sul blu che è praticamente uno degli stadi quasi finali dell'ossido parte dal bianco diventa verde poi diventa blu poi ovviamente dipende dalla tipologia di ossido ecco questi pin mi sembrano del tutto rovinati la fila di sotto è decisamente molto meglio c'è chiaramente della sporcizia di ossido ma molto meno presente qua i classici blocchini va bene è così completamente tutto quanto lo zoccolo a questo punto visto e considerato che la zona in qualche modo compromessa è tutta questa intorno alla batteria andiamo ad eliminare anche che è l'8373 e anche qua troviamo ossido su tutto lo zoccolo e proviamo a fare una pulizia degli zoccoli non sono ridotti malissimo diciamo che sono all'inizio dell'ossidazione o quantomeno forse si è stata bloccata in tempo poi quando è stata rimossa la batteria prima è evidentemente rimasto qualcosa quindi li puliamo con dell'aceto di alcol lo facciamo interagire un pochino perché così il processo chimico in qualche modo blocca eventuali altri cristalli ossidati facciamo una pulita una lavata con invece il mio solito sistema dopodiché andremo a riprovare nuovamente i chip inseriti all'interno per vedere se si sono salvati immagino di sì perché solitamente tranne in casi particolari come la mia MIGA 4000 solitamente l'ossido può danneggiare meccanicamente il componente ma non elettricamente questo ovviamente se non si accende bene vi lascio qua lascio interagire la soluzione faccio un lavaggio e una asciugatura con l'aria compressa perché oggi veramente è diluvio universale dopodiché ci vediamo immediatamente dopo per testare se finalmente il nostro audio è ritornato ok proviamo ad asciugare con compressore ora una pulitura ai pin dei componenti benissimo adesso andiamo a vedere un attimino con il nostro microscopio le condizioni dei pin sia dello zoccolo dell'8364 e quindi anche di Paola sia dell'8373 iniziamo con Paola partiamo dalla zona più messa peggio e vediamo che praticamente il pin è tornato praticamente come nuovo chiaramente se l'ossido avesse già corroso completamente il pin avremmo comunque dovuto sostituire completamente lo zoccolo anche a livello precazionale ma l'ossido era presente ma solo superficialmente al componente quindi come si vede una buona pulitura ha prodotto i suoi risultati considerate che stiamo praticamente vedendo questi pin non ad occhio nudo ma con un microscopio che mette in risalto qualsiasi imperfezione anche minima quindi da questo lato ok proviamo dal lato di sotto vanno assolutamente bene no vedo anche ad occhio nudo che vanno assolutamente bene quindi ripopoliamo nuovamente i componenti anzi ripopoliamo la scheda madre dei suoi componenti ok e vediamo se un bel bagnetto ha prodotto finalmente il miracolo sperato file oh bingo e abbiamo e abbiamo l'audio del nostro amica perfettamente funzionante io non so se da voi esce credo che si senta ora il volume non è altissimo ma proviamo a caricare a questo punto un gioco che conosciamo di più per sapere se ci sono delle problematiche a qualche canale quindi andiamo a caricare un altro giochino per test e andiamo a caricare quello che è Amidar penso sia un'uscita piuttosto recente tra i giochi risuscitati per amica quindi le nuove conversioni da arcade o cabinato sinceramente non sono sicuro di quello che sto dicendo nel senso che me ne sono scaricati qualcuno di ottime produzioni sicuramente fra questi c'è Bomb Jack e abbiamo anche come si vede partito Amidar però però è senza assolutamente senza suono niente il gioco funziona ma il suono non esiste riproviamo di nuovo con il giochino di prima ok andiamo a ricaricare nuovamente Croinz questo qui ha funzionato cerchiamo di capire un attimino se è successo qualcosa a livello di funzionamento dopo la pulizia sembrava essere comparso nuovamente l'audio ma a quanto pare è stato veramente un attimo bene e da come si sente l'audio qui è assolutamente perfetto proviamo d'accordo ok facciamo in questo modo carico un altro gioco non vorrei ci fosse qualche incompatibilità con avevamo caricato Amidar magari una nuova produzione proviamo con il classico dei classici del giochi archedic quindi Bomb Jack ok gioco appena terminato di caricare non sento l'audio introduttivo ma non mi ricordo se c'era mi sembra di sì andiamo a start game no nulla senza audio completamente senza audio e allora è veramente incredibile cioè abbiamo solo un gioco per il momento a cui l'audio funziona perfettamente ok ho scelto un altro gioco si tratta di Turrican Turrican 2 per l'esattezza vediamo che cosa ci propone il nostro Turrican Turrican caricato nessun suono iniziale non so se deve esserci proviamo non mi ricordo se a questo punto vuole caricato il disco 2 ma credo me l'avrebbe dovuto chiedere ma il gioco è appena finito di caricare l'audio introduttivo è assolutamente perfetto vediamo se anche nel gioco ma a questo punto immagino di sì e niente audio perfetto anche in gioco ok siamo arrivati a questo punto e abbiamo una situazione veramente molto particolare dopo aver sistemato l'ossidazione sullo zoccolo del nostro Paola ma anche di Denise sembra essere apparso nuovamente l'audio cosa che è l'unico problema che abbiamo riscontrato per il momento su questa macchina ma la particolarità è come abbiamo visto che alcuni giochi funzionano perfettamente al 100% dal punto di vista audio altri assolutamente sono muti completamente muti molto particolare dicevo perché stranamente tutte e quattro le voci del nostro Paola si sentono egregiamente quindi non ci sono problemi di generazione dell'audio e quindi anche gli stadi successivi quindi il preamplificatore il filtro passa basso non vedo perché un gioco dovrebbe funzionare un gioco no dobbiamo quindi ragionare cercare di trovare una soluzione tecnica altrimenti potremmo andare a sbattere un po' dappertutto cercheremo di capire se il problema è sulla sezione analogica non di generazione dell'audio ma di filtro e preamplificazione e quant'altro oppure digitale nel senso che Paola non genera effettivamente per qualche strano motivo i suoni ottenuti tramite un tipo di programmazione diversa dagli altri evidentemente cos'è che praticamente ci può far pensare ad una distinzione fra un gioco con l'altro beh Amiga tutte le Amiga dal 500 in poi hanno la possibilità di attivare un filtro audio cioè la possibilità assolutamente connessa al led diciamo della tastiera una volta attivato questo led anzi una volta attivato questo filtro viene praticamente filtrata dopo la prima preamplificazione l'audio per diciamo abbattere le frequenze sopra una certa frequenza frequenze che per le caratteristiche di Paola non possono essere generate e quindi possono in qualche modo creare non si chiamano distorsioni ma per capirci delle sorti di distorsioni l'attivazione del filtro passa basso rende il suono un pochino più cupo meno cristallino ma più morbido e più naturale se vogliamo rispetto alla versione senza filtro ora ci sono giochi giochi che attivano questo filtro giochi che non attivano questo filtro potrebbe essere che l'attivazione di questo filtro magari su un transistor o un FET che praticamente è danneggiato può creare qualche cosa per cui l'uscita audio non è assolutamente preamplificata sembrerebbe una cosa del genere quindi che cosa andiamo a fare andiamo ad escludere completamente eliminando i due FET che ora vedremo nello schema elettrico dello stadio di preamplificazione in modo tale da essere sicuri che la macchina funzionerà sempre o con il filtro o senza filtro anzi una volta tolti i MOSFET sarà sempre filtrata perché i MOSFET andranno a cortocircuitare la zona RC che quindi praticamente ci includeranno il filtro passa basso sul nostro Amiga quindi andiamo con gli schematici vi spiego quello che è l'idea lo andiamo a realizzare e verifichiamo se effettivamente questo ci porta finalmente a risolvere il problema un po' strano come problema non mi è mai capitato qualcosa del genere ma dobbiamo comunque sperimentare schema della Amiga 3000 in caricato andiamo nella sezione audio perfetto e a questo punto valutiamo quello che è lo schematico da Paola sul pin 30 31 esce l'audio come abbiamo visto prima per la ricerca del problema passa praticamente da questo preamplificatore retrazionato tramite questo filtro RC e quindi poi l'audio esce rispettivamente il canale sinistro dal pin 14 dell'F347 che in questo momento è un TL084 e dal piedinotto nel caso in cui il suono proviene dal canale destro l'uscita audio di entrambi i canali finiscono su questa serie RC R441 R442 con a delta il condensatore in retrazione del secondo preamplificatore operazionale anzi lo stesso preamplificatore operazionale ma della porta successiva quindi poi finalmente dal pin 1 tramite il condensatore di disaccoppiamento finisce in un'ulteriore rete RC sul RCA quindi abbiamo il nostro audio la stessa identica cosa accade in maniera simmetrica per il canale destro però con la sua differenza che chiaramente si utilizza un'altra porta dello stesso amplificatore operazionale si disaccoppia e finisce sul sul connettore RCA del canale destro ora se noi andiamo a vedere bene lo schema notiamo che in questa linea tra il primo tra l'uscita del primo amplificatore operazionale e l'ingresso non invertente del secondo amplificatore operazionale abbiamo questa rete RC che dicevamo prima parallelata con il drain e source praticamente di un FET che tramite il gate e la resistenza eco 370 finisce insieme all'altro sempre FET con la solita resistenza sul collettore di questo PNP che poi finisce con praticamente sul segnale cutoff insomma con le solite resistenze di limitazione di corrente e di pull up in pratica che cosa succede nel momento in cui arriva una tensione sul segnale cutoff il praticamente si interdice il PNP e quindi noi abbiamo a massa portiamo a massa i due FET che praticamente aprono il collegamento drain e source e conseguentemente escludono includono il filtro mentre quando sono in cortocircuito in cortocircuito quando insomma la resistenza di questo FET scende sotto un certo livello in qualche modo si bypassa il segnale 14 passa tramite il drain source del FET finisce direttamente nell'amplificatore operazionale in questo modo si esclude completamente il filtro ora se per esempio il FET è uno dei due FET ma è strano che tutti e due canali quindi molto strano siano danneggiati può essere che la tensione per esempio c'è un cortocircuito tra il GAN e il source o tra il GAN e il drain e quindi avrei una corrente continua proprio sui pin di preamplificazione di fatto tenendo il nulla perché la tensione in corrente continua verrebbe bloccata comunque dai condensatori di disaccoppiamento C443 C443 anzi C443 C433 in ogni caso siccome da qualche cosa dovevo partire vado ad escludere a disaldare completamente sia il MOSFET del canale destro che il canale sinistro e proviamo in questo modo non c'è più possibilità che il filtro attivabile o nonno del giochi possa in qualche modo influire sul suo funzionamento ok i due effetti sono stati mossi erano due effetti praticamente appaiati da questa zona praticamente prima dell'uscita sono 1 e 2 ho nello stesso tempo per ottimizzare i tempi zoccolato il TL084 che mi avviso funziona ma se dovessimo fare dei test comunque è meglio averlo zoccolato per facilitare un po' le operazioni successive perché questa storia dei filtri diciamo che è la prima cosa che mi è venuta in mente ma mi convince poco perché veramente sarebbe strano che entrambi i canali hanno un problema su tutte e due effetti avremmo dovuto sentire almeno un canale funzionante o semi funzionante invece così assolutamente no ci tocca però provare la macchina quindi vi stacco la camera ricarichiamo tutto il setup e poi ritestiamo gli stessi giochi che prima non funzionavano accendiamo carichiamo direttamente uno dei giochi che non dava tra questi abbiamo il bomb jack vediamo un attimino nel momento in cui dicevo subito dopo è già arrivato il bomb jack la nota positiva nota negativa che mi sembra di ecco qua di non sentire assolutamente nessun audio va benissimo ragioniamo un attimino ci ragiono un attimino su faccio qualche prova qualche test ci vediamo appena avrò capito qualcosa e quindi vi dico in che strada in che direzione possiamo andare ragazzi mi sono ripromesso che d'ora in poi i video sarebbero stati più corti e poi succedono roba del genere che ti fanno perdere veramente una marea di tempo quindi vi faccio veramente la sintesi perché poi in fondo quello per cui stiamo facendo questi video è quello di fare una sorta di divulgazione capisco che molti dà fastidio semplicemente sentire parlare vogliono vedere le immagini ma chiaramente se dovessimo fare un video riparazione rognoso come è stato questo qua mettendo tutti gli step chiaramente anche semplicemente facendo dei riassunti verrebbero video da 4 ore già i miei video arrivano da 1 ora e passa quindi se avete voglia di non dico imparare ma quantomeno prendere spunto da qualcosa dovrete in qualche modo avere la pazienza di ascoltare anche ok quello che è stato fatto nel frattempo che non abbiamo visto in video è stato intanto mandato sul mio gruppo telegram siccome non ho un altro Amiga 3000 funzionante mi era venuto il dubbio che ci fosse una sorta di incompatibilità con alcuni giochi quando praticamente si va ad utilizzare la kickstar 1.4 una kickstar in versione beta non completa quindi potrebbe esserci che ci siano dei problemi di compatibilità del resto avevo notato che tutti i giochi che non funzionavano almeno la maggioranza erano quelli di ultimissima generazione mentre giochi storici come per esempio Turrican in effettivamente funzionava regolarmente a questo punto ho installato un comune drive piuttosto che un got che ho trovato il super kickstar della Amiga 3000 e ho provato a lanciare il super kickstar con la kick 1.3 al posto della 1.4 beta che sarebbe una pre-release della 2.0 e anche con la 1.3 purtroppo ho avuto gli stessi identici problemi per cui ho escluso problemi di kickstar ma non ho escluso problemi di compatibilità delle 3000 che è una macchina un po' particolare anche se a dire il vero alla fine dei conti più che particolare è una macchina che include nella stessa macchina più caratteristiche di altre macchine diverse aperte e chiusa parentesi a questo punto ci troviamo con una situazione molto particolare potremmo andare a fare l'analisi di alcuni segnali sul nostro Paola per cercare di capire se qualcosa non è andato bene e invece ho praticamente approfittato del fatto di avere un altro Amiga 3000 qui nel laboratorio chiaramente non funzionante per testare i chip tutti i chip di questa macchina e viceversa chiaramente per avere già un'idea un quadro generale su quelle che sono le funzionalità di una e dell'altra e devo dire che una volta montati tutti i chip dell'altra macchina su questa l'audio si è risolto a questo punto ho pensato va bene ok ci sarà qualche caspita di problema su qualcuno di questi chip e ho cominciato a fare il discorso inverso quindi a smontare pezzo per pezzo ogni singolo componente ce ne sono veramente un'infinità su questo tipo di macchina molto di più di quelle dell'Amiga 4000 smontati tutti i componenti uno per uno e rimontati i componenti suoi originali adesso vi faccio vedere cosa ho trovato e quindi quello che credo sia la soluzione o almeno nel 99% dei casi è quella andiamo a vedere fisicamente cosa ho trovato su un componente andiamo sugli schemi per capire perché quel componente quel difetto potrebbe al 99% dei casi procurarci questo problema dell'audio e quindi capire anche un'altra cosa che vi dirò subito dopo io spero venga in video non so se viene fuori nel smontare questa CIA ho trovato il pin numero 21 praticamente fuori dallo zoccolo e con il piedino praticamente piegato su se stesso quindi il pin 21 di questa CIA non era praticamente in contatto con il contatto dello zoccolo quindi era completamente isolato ma andiamo a vedere che cosa caspita c'entra e il motivo per cui credo che abbiamo risolto il problema vediamo dallo schematico cosa fa questo pin anzi facciamo così ok lo lasciamo da parte per il momento lo raddrizziamo e lo montiamo sulla scheda successivamente andiamo direttamente sullo schematico a cercare di capire il problema di questa CIA andiamo nella sezione del troviamo la CIA innanzitutto vediamo se ok quindi 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 CIA dove si trova qua ok vabbè andiamo a cercarcela direttamente in questo modo ok e la U300 e il pin 21 beh il pin 21 come si vede chiaramente è l'interrupt o meglio è un pin di interrupt che finisce su l'interrupt 6 della nostra amiga 3000 se ora andiamo a fare una ricerca con int 6 per vedere dove effettivamente è collegato questo interrupt 6 bingo finisce proprio sul pin 18 di Paola quindi in pratica Paola funziona perfettamente ma manca l'interrupt 6 l'interrupt 6 che non so ovviamente dal punto di vista software come viene gestito e per quale ragione alcuni giochi lo utilizzano e altri no probabilmente ma effettivamente è finalmente un pin pin che avevo verificato con gli oscilloscopi con l'ossilloscopio avevo testato tutti i pin ma evidentemente questa effettivamente mancava quindi andiamo a raddrizzare il pin rimontiamo il nostro cia sulla amiga 3000 e verifichiamo se finalmente abbiamo il suono completo e facciamo il nostro bel bingo quindi cerchiamo di raddrizzare il pin senza ovviamente danneggiarlo veramente proprio schiacciato cambio anche occhiali perché purtroppo vedo sempre meno ok benissimo e il bambino se ne è venuto come si deve pin raddrizzato montiamo sulla nostra amiga 3000 e verifichiamo il funzionamento quindi prendiamo il nostro cia e lo andiamo ad inserire nel suo bel baccello ok non ci rimane che ricollegare nuovamente tutto quello che è necessario per avviare i soliti giochini collego tutto quanto manca ancora il drive e tutto il resto ci vediamo subito dopo qui ci vorrebbe veramente il rullo di tamburi accendiamo la macchina abbiamo caricato bomb jack ok quindi il gioco che prima non funzionava non so il 321 quando farlo quindi facciamo così arriviamo carichiamo il programma incrociamo le dita ma sarebbe veramente una coincidenza assurda che il fatto che manchi l'interrupt 6 proprio su su paola non c'entri nulla col problema che abbiamo quindi verifichiamo un pochino quindi farei un 321 è lentissimo quindi 3 2 1 non so quale traccia parte il gioco bingo perfetto abbiamo nuovamente il suono su bomb jack proviamo meraviglioso ok per sicurezza andiamo a caricare qualche altra giochino che prima non andava non mi ricordo qual era l'ultimo che non caricava l'audio ah il amida ok amida caricato perfetto bene ragazzi e con lo sottofondo musicale di wonder boy anche se da lì non lo vedete veramente minuscolo anzi abbasso il volume altrimenti non riesco a concentrarmi volevo semplicemente dirvi che con questo è veramente tutto il video è assolutamente finito finalmente abbiamo risolto anche il problema del miga 3000 e con questo volevo anche in qualche modo dimostrarvi come una riparazione apparentemente banale come può essere quella di un pimpiegato può far veramente macinare decine e decine di ore di lavoro inutilmente voi avete visto semplicemente la parte conclusiva finale quindi sarebbe anche logico aspettarsi direi vabbè potevi andare là direttamente a beccare l'interrupt 6 che ti mancava eccetera eccetera quindi ve l'ho mostrato comunque avrei potuto semplicemente farvi il discorso del tipo oh guarda sull'oscilloscopio manca l'interrupt 6 che poi non è vero c'era comunque dell'attività ma non chiaramente procurata dal CIA ma praticamente dallo stesso Paola mi è costato veramente un giorno e mezzo di ricerca e di emicrania perché poi è arrivato a un certo punto quando la logica sembra non aver avuto una fine perché la logica voleva che se il chip riusciva in qualche modo a funzionare e generava tranquillamente il suono della maggior parte dei giochi non si capiva perché altri assolutamente muto esclusa la parte analogica perché abbiamo escluso il filtro abbiamo escluso il preamplificatore riparazionale abbiamo escluso Paola nel video non l'avete visto a un certo punto io ho anche provato a sostituire Paola che avesse qualche difetta qualche indirizzo magari qualche opzione particolare abilitata a qualche gioco e verificato che le piste tutti intorno erano comunque integre sono andato di forza brutta ho dovuto sostituire tutti i componenti questo chiaramente mi è servito anche per la prossima riparazione del prossimo Amiga 3000 ma chiaramente mi ha fatto perdere un botto di tempo così come anche la ricerca delle Super Kickstar che il nostro amico non ci ha spedito e quindi ho dovuto procurare l'ADF e convertirlo in formato dischetto insomma è volata via un paio di giorni per un pin piegato da parte di qualche tecnico che praticamente ha inserito male il chip e l'ha lasciato lì praticamente isolato dal resto del contesto e questo è uno dei motivi per cui quest'anno avevo già deciso di non prendere macchine che erano stati da altri tecnici quindi mano messe per certi aspetti come si vede la riparazione alla fine verrà sempre comunque a meno casi particolari però si perde veramente un sacco di tempo mi sono dilungato veramente tanto ma volevo in qualche modo approfittare di questa riparazione per motivare alcune mie scelte se il video vi è piaciuto come al solito lasciate un bel like sotto che è molto importante nell'ultimo sviluppo del canale stesso e se non siete ancora iscritti al canale e volete iscrivervi questo mi fa veramente molto piacere mi incentiva a fare sempre molto meglio e molto di più come dico sempre e come dico sempre se avete qualche dubbio sull'iscrizione per questo video guardate tutti gli altri e poi decidete le icone ciao al prossimo video ciao a tutti